Una giornata intensa per la Confesar Centi di Brignisi che è detto un tesseramento day che diventa un'occasione di confronto con i propri associati per il ritiro delle tessere, per un confronto sui temi dei crediti, la formazione, il terziario donna, i giovani imprenditori e con le convenzioni e anche per un approfondimento per i finanziamenti regionali riservati per le imprese Mini Pia Nidi. Il tesseramento day è una nostra idea che è stata sviluppata proprio per rincontrare i nostri associati con anche il motivo di conoscerli, di conoscere le aziende e per sì che tra di loro gli associati si possano conoscere, quindi un momento di confronto, di incontro e di conoscenza della rete che si è sviluppata e si sta sviluppando sempre di più nel territorio di Brindisi e provincia con Confu Commercio Brindisi. Durante la giornata di oggi ci sarà la possibilità di incontrare i nostri consulenti per quanto riguarda il credito, la formazione, l'ente bilaterale, tutti i servizi che offriamo come Confu Commercio, quindi il terziario donna, i giovani imprenditori, tutti i lavori che stiamo facendo all'interno di Confu Commercio Brindisi per far appunto dare la possibilità di conoscere quali sono i servizi che offriamo, ma il credito ancora di più. Ci sarà anche un momento di confronto con Antonio De Vito, direttore generale Puglio Sviluppo e Barbara Branca come presidente dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, quindi sarà una giornata veramente intensa e ancora più intensa per l'aspetto del credito, quindi finanziamenti regionali e quant'altro.